intanto aspetta, mentre prendiamo il brugo col padroncino alla rovescia, intanto vediamo un cesto, ma vai, ecco Matteo, Matteo Di Molfi va a consegnare la sua fascia da capitano, proseguiamo con le donne, vediamo la fascia, chi la porterà, chi la porterà questa fascia di capitano, ecco, no, 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 la fascia no, non posso fare questa, non posso fare questa no, 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 no una grande amicizia massimo rispetto ma ci sono voci che dicono di un messaggio nel pomeriggio pomeriggiamo in futuro non si sa non si sa non balliamo forse è l'ultima da avversari contento di questo non acquistoso chiediamo anche il suo giocatore il nuovo direttore sportivo ha portino da giocatore appende le scarpette al chiodo per il borussia finalmente finalmente il jack sta raccontando di questa notizia ecco il commento a caldo del dell'uscente muccio questi minuti del giocatore del valenza come le ha viste quando è portato all'inter i suoi dieci minuti sono stati spettacolari c'è stato il ribaltone si ricorda ecco questo deve andare tutto sul tuo gioc perché lei si prende la responsabilità delle sue dichiarazioni quindi lo ripete alberto non gare un passaggio vabbè gare un passaggio buona buona è andaci tutta alberto alberto pure io volevo far fermare però a modo faccio il punto al video caro bambino